Stefano Vicari è il nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia. Il commerciante Comasco è stato eletto questa mattina. La votazione si è svolta nella sede del partito a Como e ha visto la partecipazione di 38 dai 46 a 20 diritto, ovvero i candidati alle recenti elezioni comunali e i componenti del coordinamento. Oltre a Vicari, in corsa c'era anche Pasquale Buono. La scelta di un nuovo coordinatore si è resa necessaria dopo le dimissioni di Anna Veronelli, che ha lasciato l'incarico per dedicarsi al nuovo ruolo di presidente del Consiglio Comunale di Como. Il nuovo incarico è impegnativo e richiede di rappresentare l'intero Consiglio Comunale, sottolinea Veronelli. Ho deciso dunque di dimettermi da coordinatore del partito, perché questo ruolo invece comporta il portare avanti le istanze di una parte e le due figure non sono compatibili. Ringrazio Anna Veronelli per il lavoro fatto e anche per la scelta di dimettersi, che non era obbligata né scontata, precisa il coordinatore provinciale Alessandro Fermi. Abbiamo deciso di procedere con un'elezione per scegliere il suo successore. Ringrazio i due candidati e naturalmente auguro buon lavoro a Stefano Vicari. Il nuovo coordinatore convocherà subito la prima riunione e ha già annunciato l'intenzione di creare dei dipartimenti per lavorare su argomenti specifici e portare idee e spunti ai consiglieri comunali. Gli obiettivi del mio mandato saranno, in principal modo, quelli di aiutare i nostri consiglieri, i nostri assessori, coadiuvandoli, aiutandoli, portando avanti i progetti per loro, proposte. Il nostro partito dovrà essere costruttivo, unito e sul pezzo sempre. Vorrei che il nostro partito stesse sempre in mezzo alla gente per conoscere i loro problemi, capirli e una volta capiti cercando la soluzione a questi. Non dobbiamo essere un partito di protesta, un partito unito, forte, sempre propositivo. Vorrei creare dei dipartimenti, su settori specifici, quali potrebbero essere il commercio, viabilità, sanità e dipartimenti anche su progetti specifici proprio, su cui lavorare fin da subito.